Sono 30 i comuni di tre province su quattro della nostra regione che dal 7 al 17 agosto dovranno avere a che fare con la riduzione o chiusura della distribuzione idrica da parte di ACA. Infatti, secondo l'azienda comprensoriale acquedottistica, la situazione è tutt'altro che incoraggiante, poiché le falde hanno poca acqua e per questo si è deciso di stilare una tabella con la nuova programmazione di chiusura idrica e non si escludono nuove proroghe nel caso dovesse proseguire questo periodo di siccità. Per questo ACA ha ribadito ancora una volta di limitare il consumo di acqua potabile agli stretti bisogno igienico-sanitari e domestici, ricordando che è vietato lavare con acqua potabile le aree cortilizie, piazzali, veicoli a motore, innaffiare giardini, orti e piante, riempire piscine, fontane ornamentali e vasche da giardino, infine di tenere aperte fontanelle a getto continuo. I maggiori disagi si avranno nella provincia di Pescara dove 22 comuni su 46 vedranno il flusso di acqua dei propri rubinetti ridursi. Difficoltà si registrano già sul territorio comunale di Città Sant'Angelo, uno dei comuni più penalizzati dalla nuova calendarizzazione. Il sindaco Perazzetti ha chiesto già più volte ad ACA una soluzione per una problematica che ormai va avanti da diversi anni, soluzione che potrebbe arrivare dal piano triennale delle opere pubbliche, dove è previsto un nuovo serbatoio a Villa Cipressi. Sono sette comuni in provincia di Chieti, per un totale di circa 50.000 cittadini che rimarranno a secco. Nel capoluogo teatino l'erogazione verrà completamente interrotta dalle 22 del 12 agosto alle 6 del 13 agosto per un totale di 37.000 persone a secco, mentre allo Scalo sono previste riduzioni tutti i giorni. Alla luce dell'ennesimo disagio, oggi pomeriggio ci sarà un incontro nella sede ACA di Pescara, tra una rappresentanza di cittadini di Chieti Scalo e il presidente Giovanna Brandelli. Il tema ACA sta caratterizzando anche la campagna elettorale per le prossime amministrative di Chieti, con il sindaco uscente Umberto Di Primio, che ha chiesto ad ACA investimenti certi ed immediati per la città. Criticità anche ad Atri, unico comune della provincia di Terramo a gestione ACA. Qui saranno circa 10.000 gli abitanti interessati dalla chiusura e riduzione dei flussi idrici. La tabella aggiornata e dettagliata con i giorni orari di chiusura è consultabile sul sito www.h.pescara.it